I sindaci che ieri hanno abbandonato l'Assemblea del Ruzzo e non hanno votato il bilancio chiedono innanzitutto di riscrivere il piano industriale perché, avete detto in una conferenza stampa, è l'unico modo per salvare il Ruzzo. Sì, lo diciamo noi, ma lo dicono tutti gli enti di controllo, in particolare l'ente di controllo analogo. Il piano industriale che è stato approvato è ormai inadeguato per la situazione che si vive e soprattutto per le modalità di gestione della società anche attuale che ovviamente stanno determinando solo e esclusivamente un incremento dei costi operativi, dei costi di produzione con particolare riferimento ai costi del personale, più 700 mila euro rispetto al 2018, più 3 milioni di euro rispetto al parametro del 2011 che poi è quello sulla base del quale viene calcolato la tariffa. Quindi vuol dire che attualmente anche in proiezione si prefigura per l'aumento dei costi del personale, i costi di produzione, i costi di gestione, quindi spesa corrente, non spesa per investimento, un incremento della tariffa che ovviamente si scaricherà come si sta scaricando sui cittadini. Questo non possiamo assolutamente tollerarlo, non possiamo tollerare una gestione che ripeto sta incrementando i costi e che non è nella fase attuale adeguata ad affrontare una crisi e una difficoltà che non abbiamo alcun problema, io l'ho detto chiaramente in tutte le occasioni, che viene prevalentemente dal passato. Cosa rischia il ruzzo entro il 2023, nel 2023 in particolare secondo voi? Il tema è questo, se la modalità di gestione continua ad essere questa da qui ai prossimi anni, quindi con questo incremento esponenziale dei costi, come dice l'ERSI, l'ente di controllo analogo, il rischio è che si arrivi al 2023 in una situazione che non consente il parere favorevole alla prosecuzione dell'affidamento alla società in house, che è una società fatta da soci, da sindaci interamente pubbliche che gestisce il bene acqua. Poi dalla governance attuale del ruzzo, rispetto alle richieste che avete avanzato, vi attendete una risposta entro breve tempo? Assolutamente sì, un'immediata riscrittura del piano industriale, come chiede l'ERSI sotto forma di piano di risanamento, un cambio delle modalità di gestione come quelle attuali, che se proseguiranno da qui al 2023, rischiano di farci schiantare contro un iceberg. Chiediamo quindi l'immediata riscrittura del piano, sotto forma di un piano di risanamento, a tutela della società, a tutela dei cittadini. Noi ci siamo, qui non c'è alcuna questione pregiudiziale, né personale né politica. Se poi qualcuno pensa di minimizzare la situazione, trincerandosi dietro questi concetti, sono ancora più preoccupato. E' necessaria la trasparenza, ci devono comunicare tutti gli atti, diversamente da quanto sia stato fatto finora, perché il vero obiettivo, per rispondere anche al Presidente della provincia, non è riscrivere la storia passata, la storia non la può riscrivere nessuno, agli atti e fatti, e qui non c'è nessun salvacondotto da dare a nessuno. Ma ormai c'è una gestione che viene da diversi anni, in una prima fase tecnica, oggi molto più politica. Noi vogliamo scrivere la storia futura, soprattutto della Ruzzoreti, come una società a servizio dei cittadini e non della politica. Ecco le motivazioni di fondo che hanno portato alla nostra azione, che proseguirà, proseguirà con grande forza, a tutela dei nostri cittadini.